Questo video riguarda i migliori 3 diffusore di aromi. Il vincitore della qualità è il Moistunt diffusore. Questo diffusore di aromi è dotato di un serbatoio dell'acqua di grande capacità da 500 ml, che può funzionare fino a 10 ore. È facile da pulire. Si prega di notare che l'acqua non supera il livello massimo dell'acqua. Oltre al suo utilizzo in aromaterapia, questo diffusore di oli essenziali funziona anche come umidificatore. Il diffusore di aromi è realizzato in pagine e ABS, privo di BPA, adatto a tutte le età. Nel funzionamento a ultrasuoni silenzioso, puoi goderti indisturbato l'aria rinfrescante, fresca e profumata. Il diffusore di aromi può essere regolato su 7 colori diversi, morbidi e rilassanti. Puoi anche spegnere il LED mentre dormi. Premere a lungo il pulsante light per spegnere la luce. Questo dispositivo per aromaterapia ha 4 diversi timer, ovvero 1,3,6 H on quando il tempo è scaduto. Il diffusore di aromi si spegne automaticamente. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è il WD e CD diffusore di aromi. Puoi facilmente premere il pulsante nebbia per scegliere un'impostazione del timer come desideri. Puoi anche premere il pulsante luce per regolare le 7 luci LED. La tecnologia ad ultrasuoni offre una nebbia fresca fine e stabile che mantiene pulito e adeguatamente idratato lo spazio abitativo. Un'atmosfera silenziosa inferiore a 35 decibel può creare un ambiente di sonno più tranquillo. Questo diffusore adotta una plastica avanzata priva di BPA che non rilascia alcun odore dannoso e di plastica, offrendo una vita piacevole e sana. Inoltre, gli umidificatori si spengono automaticamente quando l'acqua si esaurisce. Questo è il nuovo diffusore umidificatore purificatore d'aria per umidificatore a venatura del legno. Con il design portatile compatto, bella forma e stile unico. Può essere usato come diffusore per aromaterapia umidificatori purificatore d'aria luce notturna. Regalo perfetto per la tua famiglia e il tuo amico in qualsiasi festival, compleanno e anniversari. Il vincitore del premio è gli Oeli diffusore. Umidificatore, diffusore di aromi ed effetto fuoco che rendono tutto l'umidificatore d'aria aromatico i Oeli. Dotato di un'esclusiva tecnologia di riduzione del rumore, il rumore del diffusore di oli essenziali può essere controllato al di sotto di 25 decibel. Silenzioso e umidificato con un diffusore di aromi ultra silenzioso, non interferirà con il tuo studio, lavoro o sonno per farti compagnia tranquilla. Dotato di un'esclusiva tecnologia di riduzione del rumore, il rumore del diffusore di oli essenziali può essere controllato al di sotto di 25 decibel. Il diffusore di aromi è realizzato in ABS, pagine e componenti elettronici. Il volume massimo dell'acqua del serbatoio dell'acqua è 180 millilitri, il volume di atomizzazione è 15 a 20 ml h. Il diffusore di aromi a effetto fiamma ha un chip di protezione dalla carenza d'acqua integrato, che smetterà automaticamente di funzionare dopo che non viene rilevata acqua. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.